Maurizio Cheli, astronauta professionista, da piccolo cosa sognavi di fare? Io ho sempre sognato di volare, anche se vengo da una famiglia che non aveva mai preso l'aeroplano in vita propria. I miei genitori li ho accompagnati in volo per la prima volta, quando avevano 85 anni, io ero già astronauta. Anche a loro è piaciuto volare. Io vedevo gli aeroplani passare molto bassi, un giorno mi sono detto che devo pilotare uno di questi aeroplani. Ho guardato in alto e non ho più guardato in basso. Forse allora sognavo di volare nello spazio, non pensavo che sarebbe stato possibile una realtà, anche se sognavo, perché a qualcuno a cui piace volare, pensare di volare nello spazio è veramente l'estremo del volo. E sono riuscito a concretizzarlo.